buongiorno buon sabato mattina benvenuti a fano tv siamo in diretta sono le 7 e 30 questo è ok giornali come ogni mattina apre lo spazio dell'informazione in vostra compagnia sfoglieremo come sempre i quotidiani nell'edizione locale resto del carlino e corriere adriatico non prima però di aver dato un'occhiata del tempo e prima ancora il santo del giorno vediamo oggi che sabato 26 novembre il beato giacomo alberione il sole è sorto alle 7 e 14 tramonterà alle 16 e 35 previsioni del tempo vediamo all'insegna sicuramente della variabilità sia per oggi e per domani vedete oggi sabato la colorazione grigio scura delle nuvolette sulla provincia di ancona e di pesero la dicono lunga nuvoloso con basse nuvi però insomma perlomeno le precipitazioni non le danno non le danno in questa giornata precipitazioni assenti però compare la simbologia della nebbia delle foschie nelle zone interne quindi attenzione a questo fenomeno soprattutto nelle ore prime ore della giornata anche qui intensificazione delle foschie all'interno nessuna precipitazione però insomma compare la simbologia del sole quindi all'insegna della variabilità e del poco nuvoloso al primo mattino però in dissolvimento durante il resto della mattinata e quindi insomma si va verso il bello per la giornata di domani radicale cambiamento invece per lunedì vedete nubi senza nessuna simbologia del sole e pioggia su tutta la regione nuvoloso molto nuvoloso il cielo precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio però i fenomeni saranno in esaurimento nel tardo pomeriggio quindi nella serata di lunedì cesserà questo tempo così un po più gravoso rispetto a oggi e domani speriamo che domani ci faccia accendere l'albero in piazza allora guardiamo i giornali le pagine iniziamo dal resto del carlino l'edizione naturalmente di pesero in testa di pagina si parla dell'episodio accaduto dieci giorni fa in cui ha perso la vita una studentessa davanti a santa marta cresce la protesta dopo l'incidente mortale e poi a centropagina fotonotizia soldi alla badante per essere felici sempre più anziani versano migliaia e migliaia di euro a chi li assiste ma ci sono anche casi in cui indaga la procura della repubblica e al via appunto i mercatini e naturalmente questa è la pagina di apertura vediamo poi all'interno si parla dell'iniziativa della bella iniziativa del resto del carlino che è in uscita domani con la prima delle 16 tessere che componeranno il puzzle di gradara che lo vedete qui quindi domani partenza di questa bella idea appunto del puzzle della rocca di gradara i sogni sono già realtà il sindaco dice una scelta di ottimismo dobbiamo rilanciare naturalmente il castello delle favole annunciata la festa a giugno e perché insomma vedete qui due sponsor di questa iniziativa era com e bcc di gradara perché insomma sembra un po anacronistico un puzzle nell'era digitale però eventualmente per gli amanti di questo passatempo che vogliono riscoprire un po di manualità è una ghiotta occasione scuole nella città vi dicevo in titolo di apertura in testa di pagina il comune non ha fatto niente siamo a santa marta per mettere in sicurezza appunto l'istituto alberghiero Bettini accusa e pensare che belloni mi aveva dato dello sciacallo il consigliere ci va giù duro le madri degli studenti hanno ragione a dieci giorni della tragedia ancora non si sono tagliati gli alberi vediamo e vedremo come andrà c'è stato un vertice proprio su questa vicenda in in prefettura dove si sono ravvisate alcune misure che possono essere messe in campo vediamo negli nei prossimi giorni che cosa accadrà eccolo qui il l'articolo che riguarda il la fotonotizia in centropase in apertura soldi svaniti ma loro sono felici incapaci o solamente generosi la procura sta indagando sui presunti raggiri di amici e badanti c'è una somma ad una 94enne sono stati prelevati 83 mila ad un cinquantenne oltre 40 mila il magistrato ha aperto un fascicolo sull'iniziativa e su una segnalazione di una banca e quindi vediamo che questi sono episodi sempre sempre più frequenti anche insomma nel nostro territorio la pagina di fano del resto del carlino apre con un episodio che si è verificato alla stazione di fano svanita una bici per colpa dei vigili intralciata dagli agenti che la intralciava e gli agenti l'hanno spostata ma senza più catene nell'articolo c'è anche il commento del vice comandante la montagna eccolo qua il protagonista di questa vicenda l'aveva lasciata insomma attaccata se riesco ad allargare il più possibile a un maniglione antipanico di un'uscita della della stazione appesa praticamente sospesa per aria con una catena giustamente intralciava che poteva essere un pericolo se c'era un'uscita di emergenza delle persone dalla stazione i vigili hanno troncato la catena con la quale questo signore l'aveva legata al maniglione antipanico e l'hanno spostata più in là perché insomma vista la singolare operazione hanno pensato che forse c'era uno scherzo in atto e che qualcuno stava riprendendo comunque leggetevi l'articolo tutti gli aspetti di questa vicenda sono spiegati hanno fatto un ho fatto un disastro a parlare è il insomma il 29enne che ha dato incendio ha dato fuoco al tiravino e la bella napoli ho fatto un disastro compare davanti al giudice ma ero molto depresso queste le sue parole confessa davanti appunto il giudice che lo interrogava il 29enne e ha riconosciuto un insomma tutto quello che ha fatto dopo che un agente della del commissariato di fano lo aveva riconosciuto dai dai video all'interno del tiravino e poi ospedale unico si compatta tutta la maggioranza di centro sinistra e gli ex sindaci che vanno in rivolta verso appunto questa decisione su muraglie seri chiama raccolta tutti gli ex sindaci li vedete qui nella fotografia eccoli qua insomma una bella foto di di famiglia diciamo così cambiamo cambiamo testata andiamo nel corriere adriatico si parla delle iniziative del natale la piazza si illumina ma il centro resta un cantiere siamo a pesaro oggi alle 18 l'accensione delle luminarie poi fotonotizia al centro preti attori un'iniziativa appunto che ha visto protagonisti i sacerdoti l'arcivesco fa fa maria e naturalmente anche qui vita e morte miracoli in scena con l'allegra brigata rappresentazione teatrale dove protagonisti sono appunto i sacerdoti ma andiamo nella pagina che riguarda appunto il titolo di apertura del dell'inserto eccolo qua peso in primo piano un centro a due velocità questo è l'albero che sta per essere acceso in piazza pesaro e questi sono i cantieri nel centro della città l'assessore belloni annuncia che tutto è pronto per l'accensione delle luminarie ma restano ancora aperti i cantieri in via pedrotti e lungo il corso 11 settembre ieri è stata la giornata mondiale della violenza che è insomma una giornata particolare contro la violenza sulle donne e qui tutti i numeri le donne vessate non devono isolarsi tutti i numeri dei del fenomeno che appunto riguarda la il nostro territorio in sala verdi del teatro della fortuna c'è stato un episodio carico di significato un consiglio comunale molto particolare monotematico come avviene da diversi tempi adesso tempo ormai qui a fano dove appunto protagonisti oltre ai politici gli studenti che hanno dato vita a performance e ps che riguardavano appunto questo fenomeno l'amore gratuito salvato salva la violenza i ragazzi declamano i nomi delle vittime consiglio straordinario al teatro della fortuna con le performance degli studenti oltre 170 studenti erano presenti appunto per questo consiglio così particolare pesare provincia boom della caritas mano tesa per 7500 persone ogni mese doniamo pacchi di viveri a oltre 1500 famiglie e si offre alloggi alloggio ai padri separati questi numeri della della caritas e andiamo anche a vedere che cosa si si parla come come cronaca e cosa è riportato la ride di ladri caccia ad una mercedes nel pomeriggio insomma malviventi in azione tra pantano muraglia e monte granaro poche ore tante segnalazioni anche a valle foglia nel mirino le zone di morciola e talacchio insomma una strage di appartamenti ancora nelle pagine del corriere adriatico apriamo quelle che riguardano fano anche qui è riportata la notizia da massimo foghetti che fa appello a lucio 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 a lucio battisti dieci sindaci per fano possono bastare se riconvoca tutti i suoi predecessori apertura insomma per forza chiaruccia poi toccherà anche ai consiglieri regionali che presto saranno convocati dal sindaco seri vedete qui insomma la foto appunto che li ritrae tutti insieme centro sinistra è unito il governatore ci ripensi fuoco amico sulla regione invocata l'alternativa a muraglia con un voto palese e si è inaugurata una bella una bella mostra nel palazzo bracci pagani andatela a vedere riguarda l'atleta di fano la statua del lisippo in bronzo che è nei locali del ghetti museum ma per intanto qui a fano e in tutta italia è stato presentato un francobollo che lo ritrae appunto e questa mostra ripercorre in 13 pannelli tutta la storia di questo ritrovamento così importante e quindi giubilo corale per un francobollo dedicato a questo ritrovamento storico così importante vedete qui nella foto un protagonista assoluto di questa vicenda di tutta la vicenda il professore Alberto Berardi e poi queste sono delle studentesse che faranno da così da novelle ciceroni a quelli che andranno a a quelli che andranno a vedere questa bella mostra che ripercorre tutto il percorso della vicenda del lisippo andiamo nelle pagine della val cesano siamo a frontone ora accende il natale gioca animazione al castello anche qui insomma da domani mercatino e poi ricco programma di eventi Senigallia apriamo le ultime pagine quelle appunto della città vicina a noi il comune ha pochi soldi in cassa gli straordinari si pagano quindi parliamo di lavori di straordinari dei dipendenti comunali brutta sorpresa per i dipendenti che trovano solo parte delle retribuzioni quindi chiudiamo con quest'ultima pagina un saluto un saluto a un operatore un operatore della protezione civile che non c'è più addio a Cerioni il pensionato che si spendeva per gli altri la protezione civile piange il collega era nel gruppo i falchi della rovere oggi ci saranno i suoi funerali e quindi insomma un grande cordoglio per tutti soprattutto quando queste persone si prendono cura anche degli altri resta un segno indelebile della loro opera della loro vita bene questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere grazie per essere stati in nostra compagnia Occhio ai giornali torna lunedì mattina puntualmente alle 7.30 per aprire la giornata insieme a voi per intanto tempo permettendo buon fine settimana e buon iniziative di Natale che sono sparse per tutta la provincia in questo fine settimana Alla prossima!